È stato nella stanza dei Bottoni di Regione Lombardia dal 2006 al 2013 quando ricopre il ruolo di Assessore Regionale e Vice Presidente dell'allora Governatore Roberto Formigoni ed ora Gianni Rossoni, Sindaco di Offanengo, tra gli ultimi esponenti del territorio ad avere una delega nella Giunta Lombarda, esprime il suo rammarico per la mancata rappresentanza della provincia di Cremona. Intanto auguro buon lavoro alla Giunta Fontana Bissa. Mi pare che sia una Giunta che ha tenuto conto delle elezioni ma ha tenuto conto anche delle competenze. Mi pare una buona squadra. C'è un dispiacere, penso che è un rammarico, che è quello che la provincia di Cremona non ha nessun rappresentante in Giunta né da Assessore né come sottosegretario. Un'assenza che pesa da dieci anni a cui si devono aggiungere i prossimi cinque ma che dipende anche dalla mancata attenzione dei partiti ai territori. Non rivolgerei solo una nostra critica al Presidente che non ha magari tenuto conto delle aspettative del territorio che sono state manifestate anche nell'incontro che ha fatto a Cremona quando è avvenuto nella zona del campanile torale ma anche ai partiti che non sono stati in grado di comporre, di avere questa attenzione, cioè di darsi come criterio un criterio di una rappresentante territoriale di tutte le province. Un'assenza che equivale ad un maggiore onere di cui si devono far carico i consiglieri regionali che rappresentano la provincia di Cremona. Non è una variabile indipendente esserci o non esserci, detto questo non ci deve far abbassare la guardia rispetto alla capacità attraverso i consiglieri regionali di portare a livello di giunta, di Presidente, di Consiglio quelli che sono gli interessi e quindi le risposte che il territorio merita.